buongiorno famiglia del rugby oggi facciamo gambe ok quindi forza e cominciamo vai un bel escaldamento ognuno al suo ritmo ok lo può prolungare l'escaldamento finché non si sente caldo prima di cominciare tutti gli esercizi dai queste si possono prolungare tutto il tempo che abbiamo bisogno io accorcio un pochettino se no il video dura troppo ok qua 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 ok un pochettino aduttore ok scusate che stiamo in diretto in vivo ecco come l'ho detto vediamo se si vede tutto si perché sto da solo ok perfetto un pochettino ok faccio in sotto questo mi piace farlo tanto per la colonna ok la colonna deve essere flessibile prendiamo la gamba sotto abbiamo duttore ognuno allunga il tempo che vuole di escaldamento ok ok perfetto ok perfetto in avanti guardate male guardate male guardate male guardate male ok va 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 andiamo ok qua a cambiare un pochettino le braccia sempre diagonale il piede braccio atteso davanti un po' dietro ok uguale diagonale ok perfetto qua su avanti medio dietro avanti medio dietro ok 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 sotto vale caminiamo ok dietro avanti no cambio ok 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 apriamo chiudiamo ok su avanti arrivo avanti ok piego salgo su mi blocco giro giro torno dietro mi allungo sotto fino avanti del tutto piegamento torno faccio piccolo rotto torno ok possiamo farlo anche cinque volte ok per finire scaldare va bene ok continuiamo qua ok qua vai vai andiamo indietro ok possiamo fare avanti indietro un paio di volte ok continuiamo a scaldare le gambe qua piccolo saltello piccolo saltello piccolo saltello piccolo saltello se cominciamo a essere caldi possiamo bere un pochettino d'acqua diamo pausa al video e finiamo per fare bene l'escaldamento va bene ok cominciamo con il lavoro abbiamo bisogno di un muro e poi un spazio per trasformare ok quindi uso prima il muro e poi trasformo ok primo basico qua 30 secondi ok qua tranquillamente 30 secondi primo esercizio ok dopodichè è finito andiamo ok e trasformiamo velocità i piedi ok quindi dentro dentro fuori fuori dentro dentro fuori fuori ok con il mio veloce qua si cambiano gli esercizi continuamente ok recuperiamo un pochettino ok approfittiamo per finire l'escaldamento della colonna della schiena e rotoliamo lì indietro ok quindi qua qua e mi alzo una parte ok chi vuole si può sedere senza mani ok ci alziamo da una parte e da l'altra parte lo facciamo 4 e 4 le parti ok cominciamo la seconda serie seduti 30 secondi l'unica differenza che adesso lo facciamo con la punta del piede qua ok qua uguale 30 secondi ok qua perfetto ok 30 secondi e trasformiamo ok facciamola avanti 1 2 1 2 1 2 1 2 ok ok facciamo un pochettino 10-15 secondi va bene trasformare perfetto recuperiamo uguale di prima si sediamo e ci proviamo a alzare ok ok quindi mi siedo rotolo in avanti ok si chi riesce a farlo con una gamba con una gamba chi no lo fa con due gambe e chi no si spinge ok ok uguale rotolo ok recuperiamo riposo attivo sempre adesso prendiamo un po' di fiato terza oriante ok qua ok alzo il piede ok braccia il piede ok 20 secondi a l'alba 20 secondi uguale qua 20 secondi ok ok e poi trasformo facciamo skipping e tiriamo fuori una gamba ok fuori 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 ok per trasformare uguale a terra la prova alzarme del fianco ok faccio questo giro bacino e mi alzo ok uguale nella trappa giro bacino e mi alzo ok e già posso cominciare a correre si lo ripeto giro bacino e mi alzo ok pac in avanti ok recuperiamo ok adesso prossima serie recuperiamo un po' ok e quindi se sediamo e possiamo leggere un libro 20 secondi alamba uguale ok qua e qua ok mi leggo il libro va bene 20 secondi cambio uguale ok qua 20 secondi ok a leggere il libro va bene si ok uguale sempre trasformiamo perfetto ok facciamo due piedi adesso ok veloce ok sempre 10-15 secondi va bene bevo un po' di acqua ok secondo blocco ok cominciamo cominciamo adesso passantino fondo ma lo facciamo obliquo qua ok qua uno vai due vai tre quattro cinque sei sette otto ok facciamo per 30 secondi e sempre trasformiamo ok trasformiamo ok adesso sempre la gamba davanti qua saltiamo con tutte le volte ok cambio ok 10-15 secondi recuperiamo ok ok nel recupero facciamo quadrupedia in avanti ok piegamenti via indietro ok quadrupedia ok via avanti piegamento dietro ok quadrupedia fermi avanti piegamento dietro ok quadrupedia fermi via ok possiamo proseguire a fare sette ok recuperiamo ok uguale prima adesso sotto qua e alziamo la punta dei piedi cinque secondi giù 1 2 3 4 5 giù 1 2 3 4 5 giù vai 1 2 3 4 5 giù lo facciamo per dieci volte ok trasformiamo ok adesso lo facciamo avanti e indietro ok 10-15 secondi uguale e trasformiamo qua vai 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 ok abdominales su apro su apro su apro su apro su dai facciamo 15 denti ok e cambiamo torniamo alle gambe ok fermate il video fatelo con calma e non fate tanto reposo così il caldo lo manteniamo alto va bene ok uguale qua fondo adesso si voglio questo lo sigo lo sigo in alto qua vai 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 facciamo 25 salti vai ok respiriamo 25 salti e trasformiamo siamo riposati troppo facciamo una gamba ok veloce ok facciamo 10 secondi una gamba 10 secondi un'altra ok veloce non ti fermare che te ho visto ok uguale facciamo spiderman e torniamo indietro ok avanti ok vai continuiamo facciamo 3-4 volte ok respiriamo cominciamo ok facciamo un esercizio per i bici piedi femorale ok alzo la punta del piede alzo il piede ok su 1 2 3 4 5 facciamo 15 con ogni gamba ok qua 1 2 3 4 4 5 15 ok perfetto sì ok respiriamo andiamo aria questo è l'unico materiale che si serve ok voi non avete bisogno che siete ripisti mettiamo i piedi vanno attaccati al muro quindi devo averne contatto con il muro ok braccia al petto e devo provare a non cadere ok adesso qua al massimo e torno dietro ok 3 secondi dovete sentire la tensione ok 1 2 3 non cadere ok torniamo 1 2 3 ok cominciamo a lasciarsi cadere ma dobbiamo tenere va 1 1 2 3 1 2 3 3 continuate dovete sentire la pressione dei piedi contro il muro ok così tutto il visibile ferroale il schiotto ideale si mettono in modo tutte e tre muscoli ok vai ancora qua 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 ok dopo di qua trasformiamo ok 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 per 15 secondi 10-15 secondi respiriamo vediamo acqua non facciamo pubblicità dell'acqua anche se è l'acqua dei rietti si vuole pubblicità che si deve sponsor al rugby no? ok uguale camminiamo ok via tiriamo 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 vai non ci fermiamo vai ancora per sete volte andate e ritorno respiriamo vai perfetto ok proseguiamo carichiamo carichando ok uguale pancia in sotto pancia in su scusate qua alzo la punta dei piedi e vado avanti cammino 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 resto torno 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 ok qua via cammino 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 lungo e torno ok lo facciamo 7 8 9 o 10 volte ok trasformiamo adesso uguale mettiamo una linea qua una linea qua quindi seguitemi destra 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 sinistra 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 destra destra sinistra ok veloce 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 ok lo facciamo 20 volte e cambiamo dall'altra parte ok la stessa idea ok sinistra destra sinistra destra destra sinistra destra sinistra ok perloce veloce trasformiamo ok ok lo facciamo per gamba 10-15 secondi va che manca poco poco cosillo me nevo e voy devolete far ancora una seconda e quelli più forti anche una terza serie va bene ok uguale laterale qua ok la schiena dritta non così qua ok 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 vai lo facciamo per sette volte andate al ritorno prendiamo un po' di acqua ok è arrivata la parte più dolce ok facciamo un po' di stretching per scaricare le gambe e abbiamo finito mi raccomando fare due o tre serie minimo ok e proseguiamo dai facciamo stretching così mi lasso tranquilli la schiena diritta sempre il tempo il tempo a volontà ok può andare anche a 30 secondi a gamba minimo ok qua più andiamo indietro più tira e mi butto sopra qua sopra della gamba qua se allungerà dovete sentire il gluteo che si allunga tutto la gamba poi vado con l'altra gamba in avanti qua gamba dietro e vado sopra qua ok ok e tiro bene Allunghiamo la punta al piede in avanti. Apro le gambe, avanti, uguale 30 secondi, una gamba, un'altra gamba, due, tre, 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 tre. ragazzi io penso che per oggi ci siamo dati da fare prima di fare stretching potete fare sempre il lavoro isometrico ok aggiungere qualche esercizio delle lumbare va bene famiglia e rebbi grazie per stare lì e ricordate che tutto si risolverà ok tutto andiamo forza ciao fino a giovedì ciao ciao